Musica Buona domenica e bentrovati al consueto riepilogo delle notizie più importanti della settimana. Lunedì 27 luglio, Antonio Fiumefreddo sempre più vicino alla poltrona dell'assessorato alle attività produttive. La sua nomina ufficiale sarebbe questione di ore. E' questione di ore. L'ufficializzazione del nuovo assessore alle attività produttive. Il governatore avrebbe scelto l'avvocato Antonio Fiumefreddo. Intanto domani all'Ars si tornerà a discutere della legge di riforma delle province. Al momento sono stati approvati tre articoli. Probabilmente a fine settimana il segretario regionale del PD, Fausto Raciti, convocherà l'assemblea regionale del partito. All'ordine del giorno il caso Crocette e la situazione politica in Sicilia. Nel corso dei lavori sarà nominato anche il nuovo presidente dell'assemblea, che subentrerà al renziano Marco Zambuto, dimessosi nel pieno delle polemiche sulle primarie di egrigento per le recenti amministrative. Intanto il governatore ha invitato tutti ad abbandonare i gossip e a parlare delle cose concrete da fare. Nei prossimi giorni, dopo aver parlato con le forze di coalizione, ha detto e illustrerò i punti in una sorta di manifesto democratico e riformista. Un piano di azioni concrete basate sostanzialmente su tre elementi. Le riforme da fare in Sicilia, inclusa la programmazione europea, il rapporto con lo Stato e l'Europa, la necessità di quel riconoscimento degli articoli 36 e 37 dello Statuto in materia di entrate fiscali, che dal 1946 in poi lo Stato non ha mai riconosciuto e che potrebbe far divenire l'isola una delle regioni più ricche d'Europa. Sviluppi nell'inchiesta sulla morte della piccola Nicole Di Pietro, la neonata morte in ambulanza nel Catanese, sospesi tre medici della casa di cura Gibino. Il GIP di Catania, su richiesta della procura etnea, ha sospesso dalla professione medica per dieci mesi il neonatologo Antonio Di Pasquale, la ginecologa Maria Ausilia Palermo e l'anestesista Giovanni Alessandro Gibino. I tre sono ritenuti responsabili della morte della piccola Nicole Di Pietro, deceduta poco dopo il parto lo scorso 12 febbraio durante il tragitto in ambulanza perché non c'era posto negli ospedali catanesi e di Siracusa. Ai tre indagati sono stati contestati reati di omicidio colposo e falso ideologico nella cartella clinica. La consulenza tecnica medico-legale, già depositata ad aprile, ha evidenziato a carico degli indagati condotte gravemente colpose e causalmente incidenti sulla morte della neonata. Secondo quanto ricostruito dalla procura, la documentazione medica prodotta dalla casa di cura Gibino è apparsa da subito carente e complessivamente inattendibile, con riferimento al decorso del travaglio, alle condizioni di salute della bambina dopo la nascita e alle manovre rianimatorie praticate. Inoltre, dalle intercettazioni telefoniche, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe emersa l'incompletezza del kit di emergenza neonatale in dotazione alla sala parto, con particolare riferimento alla mancanza degli strumenti necessari per la cateterizzazione del neonato, procedura indispensabile per una corretta rianimazione e stabilizzazione del bambino. A Campo Felice di Roccella, Hot Couture in Passerella, serata all'insegna dell'alta moda con ospiti d'eccezione. E' stata una bellissima serata organizzata dalla G&G, Gian Paolo Guida e tutto il suo staff, è stata una serata meravigliosa, qui a Campo Felice di Roccella il pubblico entusiasta, la moda meravigliosa grazie anche ad Anton Giulio Grande che insomma è un must della moda italiana e sono davvero felice di aver presentato questa bellissima serata. Sono stato molto felice di venire in questo posto bellissimo, in questa località meravigliosa, per me è la prima volta. In realtà la Sicilia è una regione che mi sta molto a cuore, e in particolare la provincia di Palermo, dove ho fatto le sfilate, tra le sfilate più belle che ho fatto nella mia carriera e che ormai si appresta a festeggiare i 20 anni. Quindi una piazza gremita, delle modelle bellissime, i miei abiti storici che ho sfilato con un pubblico bellissimo ed è sempre il grande calore del popolo siciliano e della provincia di Palermo. Quindi insomma per me è sempre un grande piacere ritornare, un grande onore vivere questa magia che solo la provincia di Palermo ti dà. Sono stato invitato dalla G&G Glamour, da Gian Paolo che è un mio amico, e quindi sono stato molto felice, devo dire dai grandi professionisti che hanno confezionato per me una serata bellissima con la mia amica Nathalie Caldonazzo che ha fatto la testimonia dell'apertura della sfilata. E quindi insomma un mix di modelli e modelle palermitane per un finale e per un'apertura bellissima, veramente ricca di emozioni. Sono stato molto felice di tornare in Sicilia. Martedì 28 luglio il ministro dell'interno Angelino Alfano a Palermo è intervenuto sulle presunte intercettazioni pubblicate dall'Espresso. Il tema delle intercettazioni è molto semplice. C'è il diritto all'indagine e c'è il diritto alla riservatezza. Addirittura la segretezza delle comunicazioni tra privati viene affermata nella nostra Costituzione tra i primi articoli. Dunque questo è un principio che rischia di essere oscurato perché non c'è nessuno che difenda i cittadini rispetto alla violazione della loro privacy. Non è un problema di potenti o solo di potenti, è un problema di tutti i cittadini. Occorre trovare un giusto punto di equilibrio. Questo per quanto riguarda le intercettazioni. Però io sento parlare in questi giorni a sproposito del tema delle intercettazioni su una questione che non ha nulla a che fare con le intercettazioni e che è quella che riguarda il furto di immagini e di parole, ossia il furto di audio e di video. secondo questo metodo sarebbe possibile venire in casa tua, registrarti o filmarti e poi buttare sulla rete o nella rete quelle immagini rubate. Quello è un furto, è un furto criminale di immagini o di audio che appartengono alla sfera privata. Non c'entra nulla con le intercettazioni perché le intercettazioni vengono autorizzate dai magistrati. Bisogna essere chiari. Le intercettazioni sono autorizzate dai magistrati ed è una compressione della privacy e della libertà personale che serve per fare le indagini. Invece se tu rubi un audio o un video ad una persona per rovinare poi la sua reputazione o per ricattarlo, quello è un reato e non bisogna parlare in questo caso di intercettazioni perché non si parla di intercettazioni perché non sono intercettazioni. Detto con grande chiarezza che è bene chiedere al Partito Democratico di far fare un passo indietro a Crocetta. Speriamo che il Partito Democratico abbia questo coraggio. Noi siamo pronti a sostenere in Assemblea regionale siciliana le leggi urgenti a beneficio dei siciliani e malgrado Crocetta. Speriamo che questa stagione si chiude il più presto possibile con un gesto di coraggio del PD. A 19 lunedì prossimo la gara con l'apertura delle 30 buste e l'aggiudicazione dell'appalto per la bretella. Entro lunedì prossimo le 30 aziende invitate dall'ANAS dovranno presentare un'offerta per la realizzazione della bretella provvisoria che agirerà il viadotto in attesa che il pilone raggiunto alla frana sia demolito e ricostruito. Lo stesso giorno le buste saranno aperte e si la procedura per l'aggiudicazione della gara. Dopo oltre tre mesi comincia a muoversi qualcosa per il ripristino della viabilità sulla 19 dopo il cedimento del pilone del viadotto Imera. La tabella di marcia garantisce l'assessore al territorio Maurizio Croce sarà rispettata senza dubbio. All'ANAS sono un po' più prudenti. Quindi fino al 3 agosto dovranno partire le occupazioni temporanee che preludono gli espropri dei terreni per arrivare all'apertura delle buste con tutte le carte in regola. Alla gara sono state invitate 30 aziende scelte pescando dalla white list per gli appalti della regione. A loro disposizione un budget da 9,3 milioni per adeguare la provinciale al transito dei tir e per realizzare una rampa d'accesso alla Palermo-Catania. La deviazione partirà dallo svincolo di Scillato passando sotto il viadotto Imera poi gli si affiancherà e infine permetterà di mettersi in autostrada. La città di Palermo è sporca e sommersa dai rifiuti. Così il sindaco Leo Luca Orlando lancia un ultimatum alla RAP. Niente più soldi se non si pulisce. Il sindaco di Palermo Leo Luca Orlando ha inviato una nota al presidente della RAP Sergio Marino con la quale in qualità di socio unico dell'azienda ha voluto esprimere in modo chiaro ed inequivocabile la posizione dell'amministrazione comunale circa l'attuale andamento dei servizi e sulle responsabilità da sottoporre a verifica. Nella lettera che arriva dopo un incontro che lo stesso Orlando ha avuto con Marino nei giorni scorsi, il sindaco riconosce che l'arrivo dei nuovi mezzi rappresenta un segnale della possibilità di ripresa di efficienza, ma allo stesso tempo sottolinea che rimangono certamente criticità nei servizi con riferimento all'organizzazione e alle attività di competenza delle funzioni dirigenziali. Secondo Orlando la crisi determinata dal fallimento dell'AMI è stata superata con uno straordinario impegno dell'amministrazione, dei lavoratori e soprattutto dei cittadini, ma l'attuale situazione di disservizi non può essere ulteriormente tollerata dall'amministrazione comunale e dalla cittadinanza. Il primo cittadino quindi chiarisce che sono intollerabili ulteriori richieste di risorse per un servizio che deve essere reso al meglio con le risorse umane disponibili e senza aumenti di risorse economiche. Un messaggio quello relativo all'impossibilità che siano destinati altri soldi alla RAP dal bilancio comunale, che Orlando vuole sia reso noto a tutto il personale dell'azienda, avviando allo stesso tempo un'azione di rigorosa verifica delle attività dei titolari di funzioni dirigenziali. Mercoledì 29 luglio via libera le linee guida in sanità, la giunta Crocetta ha istituito gli ospedali riuniti. La giunta regionale, dopo i confronti con l'assessore alla sanità e la commissione sanità all'Ars, ha approvato le linee guida della sanità siciliana. Con la risoluzione la Sicilia istituisce gli ospedali riuniti, rendendo possibile il salvataggio dei piccoli ospedali a rischio chiusura. Una scelta condivisa dal Ministero della Saluta e che permette di realizzare economie di scala, evitando la ripetizione dei servizi in ambito territoriale, consentendo di razionalizzare i servizi, garantendo altresì la qualità dei livelli essenziali di assistenza. Si sbloccano inoltre le piante organiche e si dà via al piano assunzioni. Entro il 30 settembre le aziende dovranno presentare un piano di riordino dei servizi e le nuove piante organiche per poi procedere al reclutamento del personale. Il governo, ha detto Crocetta, interviene concretamente per cambiare la sanità siciliana, che negli ultimi anni ha smesso di produrre indebitamente a determinato utili attraverso l'attento monitoraggio delle aziende sanitarie e la lotta agli sprechi. Adesso il decreto proposto dal neossessore Baldo Gucciardi dovrà essere approvato dal Ministero della Salute. Ricordato a Palermo il 32esimo anniversario della strage di via Pipitone Federico, in cui morirono il giudice istruttore Rocco Chinnici, i carabinieri della scorta ed il portiere dello stabile. Sono trascorsi 32 anni dalla strage di mafia di via Pipitone Federico a Palermo, in cui persero la vita il giudice istruttore Rocco Chinnici, gli uomini della scorta, il maresciallo Mario Trapassi, l'appuntato Salvatore Bartolotta e il portiere dello stabile dove abitava il magistrato Stefano Lisacchi. Nel luogo dell'Eccidio sono state deposte corone di fiori. Alla cerimonia erano presenti la figlia Caterina, l'assessore comunale alla pianificazione urbana Giuseppe Gini, il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Giovanni Ardizzone, il procuratore generale in corte di appello Roberto Scarpinato, l'assessore regionale alle infrastrutture Giovanni Pizzo, i vertici dei carabinieri di un gruppo di giovani del centro padrenostro. La figlia Caterina ha sottolineato l'importanza di ricordare dopo 32 anni la figura del padre che aveva a cuore il futuro dei giovani. 32 anni, sono passati 32 anni ma io credo che mio padre veramente ha lasciato un po' il segno, ha cambiato proprio la cultura giuridica e ha cominciato anche a sollecitare il cambiamento della cultura in generale, il cambiamento delle coscienze, rivolgendosi soprattutto ai giovani. Il suo lavoro ha avviato io credo una stagione nuova di impegno non soltanto sul piano giudiziario ma proprio sul piano civile, ha cambiato la metodologia di indagini, ha sollecitato una legislazione più efficace, ha sostenuto la prima legge che consentì le indagini bancarie che consentì le confischie, allora la legge Rognoni e la Torre e ripeto si è rivolto ai giovani per sollecitare il cambiamento culturale. Il sindaco di Altavilla Milicia Nino Parisi dopo essersi reinsediato ha nominato la nuova giunta comunale. Il sindaco di Altavilla Nino Parisi è già al lavoro dopo essersi reinsediato in seguito all'annullamento da parte del Tarre del Lazio dello scioglimento del comune, il primo cittadino ha provveduto a sciogliere la giunta comunale e a nominarne una nuova. In prima istanza Parisi aveva confermato la precedente giunta ma dopo le dimissioni della dottoressa Romano e della professoressa Pinello ha nominato i nuovi assessori con relative deleghe. Il geometra Giuseppe Petrancosta è stato nominato vice sindaco con delega alla Polizia Municipale e Politiche Sociali. L'architetto Vincenzo Lobosco invece si occuperà di energie rinnovabili, bene culturali e cultura, decoro urbano e manutenzioni ordinarie. Ed ancora l'avvocato Vincenzo Sparti ha avuto la delega agli affari legali e contenziosi, supporto alle vittime del pizzo e della criminalità organizzata, prevenzione anticorruzione, applicazione della Carta dei diritti del cittadino, rapporti con gli organi di giustizia e con le forze dell'ordine, diffusione della cultura della legalità tra i giovani e nelle scuole. Infine la professoressa Francesca Tornese si occuperà di pubblica istruzione, politiche giovanili, salute, funzionamento delle consulte comunali, rapporti con il santuario e le realtà religiose locali. Via libera alla riforma delle province in Sicilia è dunque alla nascita dei liberi consorsi di comuni. Lars ha terminato l'analisi dei 46 articoli che compongono la legge e adesso manca soltanto il voto finale che l'Aula dovrebbe pronunciare entro oggi e su cui non dovrebbero esserci più dubbi. Per dar vita agli organi di area vasta si ricorrerà a elezioni di secondo livello, saranno cioè sindaci e consiglieri comunali ad eleggere le amministrazioni dei liberi consorsi. Tempi e modalità saranno regolamentati a breve con un decreto ad hoc. Ciò significa che non saranno i sindaci delle grandi città a diventare automaticamente sindaci delle aree metropolitane perché sarà necessario ricorrere ad una elezione. Per candidarsi inoltre il sindaco di uno dei comuni ricadenti nell'area metropolitana dovrà avere di fronte almeno 18 mesi di mandato rimanenti e questo di fatto esclude dal primo turno i sindaci di Palermo e Catania, Orlando e Bianco. Dalla pubblicazione della legge passeranno però ancora almeno sei mesi, visto che è stata fatta salva la possibilità di modificare le adesioni dei comuni a questo o a quel consorzio a prescindere dalla ex provincia di appartenenza. L'unico requisito richiesto sarà quello della continuità territoriale. Per quanto concerne il personale provinciale, i liberi consorsi dovranno definire le proprie piante organiche e dunque il personale da ereditare dall'ex provincia. L'eventuale mobilità sarà definita con decreto del Presidente della Regione. Le funzioni dei nuovi enti territoriali saranno più vaste rispetto a quelle dell'ex provincia. Avranno competenze proprie in materia di servizi sociali e culturali, di sviluppo economico, di organizzazione del territorio e tutela dell'ambiente. Il rapporto Svimez sull'economia del mezzogiorno, dati allarmanti per il Sud, dove uno su tre è a rischio povertà. Una persona su tre è a rischio povertà al Sud. I dati del rapporto Svimez 2015 sull'economia del mezzogiorno tratteggiano un panorama allarmante. In Italia negli ultimi tre anni, dal 2011 al 2014, le famiglie assolutamente povere sono cresciute a livello nazionale di 390.000 nuclei, con un incremento del 37,8% al Sud e del 34,4% al Centro Nord. Quanto al rischio povertà, nel 2013 in Italia vi è resposto il 18% della popolazione, ma con forti differenze territoriali. 1 su 10 al Centro Nord, 1 su 3 al Sud. La regione italiana con il più alto rischio di povertà è la Sicilia, 41,8%, seguita dalla Campania. Il rischio, si legge ancora nel report, è che il depauparamento di risorse umane, impenditoriali e finanziarie potrebbe impedire al mezzogiorno di agganciare la possibile nuova crescita e trasformare la crisi ciclica in un sottosviluppo permanente. C'è un forte rischio di desertificazione industriale. Insomma, se la situazione non cambia, non si intravedono possibilità di riprese economiche e sociali per le regioni del mezzogiorno. E non è un caso se, dal 2000 al 2013, il Sud è cresciuto del 13%, la metà della Grecia, che ha segnato più 24%, oltre 40 punti percentuali in meno della media delle regioni convergenza dell'Europa a 28. Emergenza rifiuti, il presidente della Rapp accusa, molti netturbini evitano di proposito le strade con i cassonetti strapieni. L'emergenza rifiuti a Palermo si aggrava e come se non bastasse scatta adesso un vero e proprio rimpallo di accuse. Dopo l'ultimatum del sindaco Orlando alla Rapp e le proteste dei sindacati, adesso ad intervenire il presidente Sergio Marino, che lancia accuse pesanti. Gli autisti dei compattatori non si fermano quando vedono i cassonetti troppo pieni di sacchetti per non dover raccogliere quelli caduti a terra. Gli spazzini non vogliono lavorare in squadra perché in compagnia non possono imboscarsi. Inoltre, buona parte dei dipendenti, continuo Marino, in questi mesi sta facendo molta resistenza ad accettare la riorganizzazione del lavoro che li costringerebbe ad operare in squadra e sotto la supervisione delle circoscrizioni. Fino ad oggi, lavorando da soli, trascorrono il tempo del turno imboscandosi senza fare il proprio dovere. Oppure gli equipaggi dei compattatori decidono di non fermarsi nelle piazzole con i cassonetti colmi di rifiuti, in modo che in un paio di giorni si creano montagne di immondizie e debbano intervenire le pale meccaniche. In sostanza, secondo Marino, l'emergenza rifiuti delle ultime settimane sarebbe dolosa. Il CDA ha deciso dunque di dare una settimana di tempo ai dirigenti per applicare le direttive della nuova riorganizzazione, ha assicurato Marino, altrimenti procederò con il licenziamento di chi non lo ha fatto. Intanto continuano le proteste dei palermitani, i cassonetti rovesciati e dati alle fiamme sono all'ordine del giorno. Venerdì 31 luglio, vertice nella sede regionale del PD con il vice segretario nazionale Lorenzo Guerini. All'ordine del giorno, il futuro della Giunta e l'ipotesi elezione. Siamo qui per ascoltare, lo ha detto il vice segretario nazionale Lorenzo Guerini ieri sera a Palermo. Credo sia giusto che la segreteria nazionale parli con il partito e con le sue articolazioni territoriali, con l'obiettivo di fare le scelte migliori, con la consapevolezza che siamo chiamati a governare questa regione e dobbiamo farlo con capacità, determinazione e con forza. Come ha detto Renzi, se siamo in grado di farlo bene, altrimenti ne prenderemo atto. Sono qui, soprattutto per confrontarci. Guerini ha partecipato ad una riunione della segreteria regionale del partito, allargata al gruppo parlamentare a Lars e ai segretari provinciali sulla situazione politica, ma anche con il compito di rimettere a posto le cose all'interno del partito, alla vigilia dell'assemblea in programma lunedì e dopo le polemiche sulla convocazione lanciate al presidente uscente Marco Zambuto contro il segretario regionale Fausto Raciti. L'obiettivo per Guerini è fare le scelte migliori, con la consapevolezza che qui in Sicilia siamo chiamati a governare. Dobbiamo capire se siamo in grado di farlo oppure no. Caso Tutino si allarga l'inchiesta sulla gestione dell'ospedale Villa Sofia di Palermo, sospesi l'ex commissario di Villa Sofia, l'ex direttore sanitario ed un primario. L'inchiesta sulla sanità siciliana si allarga un mese dopo l'arresto del primario del reparto di chirurgia plastica di Villa Sofia, Matteo Tutino, il giudice per le indagini preliminari ha emesso un provvedimento di interdizione per altri indagati. Secondo il procuratore aggiunto Leonardo Aguece, il sostituto Battinieri sarebbero i componenti del cerchio magico di Tutino, coloro cioè che avrebbero protetto il primario nei suoi affari Loschi. Il provvedimento riguarda Giacomo Sampieri, fino all'anno scorso commissario dell'azienda Villa Sofia Cervello. Per lui una pena pesante, il giudice ha deciso un anno di interdizione dal lavoro. Sei mesi di interdizione invece per l'ex direttore sanitario Maria Concetta Martorana e per Damiano Mazzarese, primario della rianimazione e per un periodo responsabile delle chirurgie dell'ospedale palermitano. Sampieri e Martorana sono indagati per abuso d'ufficio. A Mazzarese viene contestato invece di non aver impedito le condotte di truffa e peculato contestate a Tutino. È il pericolo di reiterazione del reato che, si legge nell'ordinanza, ha fatto scattare i provvedimenti cautelari. Il presupposto, secondo il giudice, è rappresentato dal fatto che i tre indagati ricoprono incarichi nel settore sanitario. Sampieri infatti è tornato a lavorare come dirigente all'Asp6 di Palermo, la Martorana è direttrice sanitaria degli ospedali riuniti di Marsala, mentre Mazzarese è direttore dell'unità complessa di anestesia e rianimazione di Villa Sofia. Infine è indagato anche Nicola San Filippo, primario del reparto di cardiologia, a lui viene contestata l'ipotesi di abuso d'ufficio in concorso. È nato a Catania il primo bambino concepito in Sicilia con la fecondazione eterologa. È nato a Catania il primo bambino concepito in Sicilia con la fecondazione eterologa, dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha abolito il divieto posto dalla legge 40 del 2004. Il piccolo pesa 3,2 kg, sta benissimo e si nutre di latte materno. Il trattamento è stato effettuato dal team del Centro di Unità di Medicina della Riproduzione di Catania, diretto dal ginecologo Nino Guglielmino, a capo di una struttura all'avanguardia in campo internazionale con un alto numero di trattamenti e una delle percentuali più elevate al mondo di gravidanze ottenute. Una gioia immensa per i genitori entrambi quarantenni, un sogno che rincorrevano da oltre dieci anni. I primi trattamenti di fecondazione eterologa compiuti dal Centro Hera di Catania dopo il via libera della consulta risalgono all'ottobre del 2014. Da allora sono in corso oltre 30 gravidanze e altre nascite sono attese già nelle prossime settimane. Il Centro, dice Guglielmino, si è sempre battuto a fianco delle associazioni dei pazienti che rappresentano le coppie infertili e sterili. Rimuovere gli ostacoli posti dalla legge 40 è stato un duro impegno decennale a difesa di quello che la Corte Costituzionale ha ritenuto sia da ricondurre tra i diritti incoercibili della persona, oltre che rientrare nella tutela del diritto alla salute fisica e psichica. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e buona domenica.